Lei perciò faceva col dito... Eh già, volevo... Ah commissario... Sembra... Sembra una barzelletta... Mi dispiace, caro dottor, ma... Supposta o non supposta, lei è una piccola multa... La devo pagare... Eh va bene, la vaga, non cascherò in mondo... Quando è? 37.000 lire... Eh... È rimasto paralizzato... No, dico 37.000 lire... C'è la frode... Ma che frode è frode? Ma non mi faccia arrabbiare, non mi faccia arrabbiare, frode... Ma lo sa lei, questa afflizione... Dovano contratti in causa di servizio... Causa di servizio... Sì signore, stanno sedute le ore... Dentro a una bandera, davanti a una schivania... Correre, andare avanti, indietro... Dormire peggio, mangiare male... Ha capito? Sembra a servizio dello Stato... Queste sono supposte parastatale... Commissario, veniamo alle corte... Statale o non parastatale... Lei le sopposte non se le mette se non paga la multa... Ah sì? Ti piaceva? Io piglio 37...